Attenzione! Alla casa del caffè di Bugugiate, macchina del caffè dolce gusto a soli 69,90€ con 50 capsuli in omaggio. Offerta limitata fino a esaurimento scorte. Solo in negozio, solo alla casa del caffè di Bugugiate in via Montello 1. Vi aspettiamo! Attenzione! Alla casa del caffè di Bugugiate, macchina del caffè dolce gusto a soli 69,90€ con 50 capsuli in omaggio. Offerta limitata fino a esaurimento scorte. Solo in negozio, solo alla casa del caffè di Bugugiate in via Montello 1. Vi aspettiamo! Attenzione! Alla casa del caffè di Bugugiate, macchina del caffè dolce gusto a soli 69,90€ con 50 capsuli in omaggio. Offerta limitata fino a esaurimento scorte. Solo in negozio, solo alla casa del caffè di Bugugiate in via Montello 1. Vi aspettiamo! Attenzione! Alla casa del caffè di Bugugiate, macchina del caffè dolce gusto a soli 69,90€ con 50 capsuli in omaggio. Offerta limitata fino a esaurimento scorte. Solo in negozio, solo alla casa del caffè di Bugugiate in via Montello 1. Vi aspettiamo! Ciao! 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 Ciao!